Ecopolis vuole essere un simbolo per la nostra città. Il simbolo del nuovo che avanza. Simbolo di un nuovo stile di vita. Volevo parlare con lei del cinema contemporaneo. Il suo film parlerà del problema del commercio con paesi in via di sviluppo. Questi temi esurano dal mio percorso. Oggi è reality che interessa il pubblico. Lei può fare tutto quello che vuole. L'infinamento, il riscaldamento, la fame e la sete nel mondo. Cosa c'è? Le ricordo risposto. Ah! Ecco, l'inizio della fine. Lei ne taglierà poco? Sì. Essere incompresi è il grande rischio che corriamo noi veri artisti. Capito? Non ti voglio. Al di là delle intenzioni dell'artista conta solo l'opera. Conta il significato che noi gli attribuiremo e l'uso che se ne farà. vogliono farmi raccontare delle barzellette. Il potere ultimo sull'arte è nostro. Vede? Il problema è che noi abbiamo delle esigenze precise di marketing. ma il controllo artistico del film è mio. A presto! Ahahahah! Grazie a tutti.